Convertire le nostre macchine per supportare i vari ospedali del Lazio Principalmente abbiamo lavorato con lo Spallanzani, Pertini e Umberto Primo Che cosa avete fatto esattamente? Allora, guarda, in realtà è stata molto particolare come esperienza perché abbiamo lavorato proprio nei reparti Covid L'organizzazione è stata, diciamo, ottimale anche grazie all'università Senti, prima quando ci siamo visti, prima dell'inizio, c'avevi nello zaino qualcosa Cosa faccio vedere? Perché non me l'hai portato? Guarda, perché ci dovrebbero essere delle foto La peculiarità negli ospedali è che abbiamo riscontrato che ogni ospedale aveva delle esigenze particolari perché la fornitura dei dispositivi di protezione erano diversi cioè quindi abbiamo dovuto sviluppare dei filtri che si adattassero su varie masche quindi abbiamo dovuto progettarne vari quindi con la digital fabrication in questo caso è stato possibile proprio perché siamo stati veloci e rapidi Oltretutto, quello che vorrei sottolineare è entrata Honda, Honda ricerca e sviluppo è rientrata nella community e ci ha dato un supporto mettendoci a disposizione le loro macchine La community è partita dal basso, quindi sulla rete poi è entrata all'università e poi è entrata la grande azienda Certo 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 Certo